Inaugurato a Lecce, il centro di somministrazione del vaccino anti-Covid destinato ai dipendenti di Acquedotto Bugliese, una delle prime società del centro-sud Italia, ad avere dato inizio alla procedura per la vaccinazione aziendale. Un'iniziativa resa possibile grazie al coordinamento dell'assessorato regionale della sanità dell'ASL Leccese. Anziché utilizzare spazi interni, si è deciso di allestire una struttura mobile in un'area all'aperto vicino alla sede della CUPI, dove i 42 dipendenti che ne hanno fatto richiesta potranno vaccinarsi. Abbiamo invece utilizzato una struttura mobile all'interno, climatizzata, già attrezzata per un ambiente consono alla vaccinazione e poi all'interno è divisa in varie zone dove effettuare l'anamnesi, la vaccinazione e l'attesa di osservazione post-vaccinazione. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un'ampia gamma di misure che l'Acquedotto Bugliese ha messo in atto per contrastare la pandemia e favorire il benessere dei propri dipendenti, tra cui appunto la vaccinazione in loco perché comporta diversi vantaggi. C'è un vantaggio psicologico, abbiamo avuto alcuni dipendenti che hanno detto che se non li avessimo chiamati a vaccinarsi in azienda non si sarebbero vaccinati perché si sentono più tranquilli, più sicuri. Il vantaggio per i cittadini, per il servizio, è che in questa maniera si riescono a organizzare le vaccinazioni in modo da comporre e scomporre le squadre operative per garantire sempre la consueta copertura di servizio H24.